TG Sport Il campo basso sta per chiudere la prima parte dei lavori, dal 17 si riparte alla volta delle montagne abruzzesi dove Cudini attende i frutti dell'intenso lavoro del direttore De Angelis. I giocatori rosso blu hanno alternato doppie sedute ad altre in cui il tecnico ha preferito allentare i carichi di lavoro concedendo anche mezze giornate in piscina. I nomi accostati alla squadra sono sicuramente di un certo spessore, indiscrezioni di stampa che rendono l'idea di un campo basso che vuole alzare l'asticella e aggiungere qualità ad ogni reparto. Cudini per ora ha scoperto anche il ruolo di uno dei due portieri mentre si vocifera che il tecnico abbia richiesto anche un altro centrale difensivo. Da oggi via la campagna abbonamenti, tessere disponibili presso lo store in centro città. Come costume del campo basso, attento alla cura della comunicazione, le frasi che lanciano la campagna abbonamenti cercano di colpire la sensibilità e la passione del tifoso rosso blu. Viviamo un sogno che ci spinge a seguirti ovunque, a gioire per una vittoria, a piangere per una sconfitta. Non importa quale sarà la categoria, non importa quali saranno gli avversari da battere. Il nostro sogno è vincere al tuo fianco e sostenerti sempre ad occhi chiusi. Frasi di impatto non c'è che dire, la cui sostanza rimanda la conferenza tenuta meno di una settimana fa da Mario Gesuè, il quale esortava i cronisti presenti a non comunicare scoramento nel caso in cui del ripescaggio in Lega Pro non se ne dovesse fare più nulla. Un passaggio significativo a cui ci associamo. L'entusiasmo del pubblico deve essere quello del primo marzo 2020 per provare a dare continuità alle vittorie, ma anche alle presenze allo stadio, emergenza sanitaria permettendo. Ogni giorno proviamo ad aprire un piccolo capitolo dedicato all'eventuale domanda di ripescaggio del campo basso. E' la cronaca a imporcelo. In sostanza pare che la situazione del Bitonto sia destinata ad aggravarsi. I pugliesi rischierebbero la retrocessione, dunque un ritorno in serie D con la promozione in serie C del Foggia, giunto alle spalle del Bitonto. Tutto questo per una presunta combin durante Picerno-Bitonto del 5 marzo 2019. A tal proposito vanno pure registrate le dichiarazioni del sindaco di Foggia, Franco Landella, il quale si è detto molto scettico su un possibile futuro dei satanelli in serie C. A causa dei costi molto elevati sarebbero stati invitati i soci a fornire ulteriori dettagli sulla consistenza del club rossonero. Situazione in evoluzione anche in Lega Pro. Ricordiamo pure che ad oggi non esiste alcuna graduatoria circa i ripescaggi in serie C che per ora, avendo la Lega prediletto le riammissioni, sono un qualcosa di eventuale. Ad Agnone si è cominciato a sanificare gli spogliatoi. La dirigenza si è messa all'opera per organizzare stage nei giorni successivi al Ferragosto. Si sta lavorando anche ad aspetti logistici, come la disponibilità dell'ostello in pieno centro cittadino di proprietà del Comune e che solitamente accoglie i calciatori dell'Olimpia agnonese tutto l'anno. Una data ipotetica fissata per il ritiro è il 20 agosto. Ad oggi non ci sono tecnici né calciatori, ma un operatore di mercato in particolare ha già presentato una lista di giocatori che potrebbero fare al caso dell'Agnone con la panchina che potrebbe finire a Matteo Vullo, giovane allenatore in rampa di lancio che in questo momento potrebbe fare al caso della società alto molisana. Da questo punto di vista è atteso il placet della dirigenza che dovrebbe approvare l'elenco presentato già da qualche giorno a questa parte. In ritiro a Castropignano con allenamenti a San Pietro in valle il Vasto Girardi di Mister Prosperi, una squadra ancora in costruzione tra i riconfermati il capitano. Sergio Ruggeri è partito ufficialmente il quarto anno consecutivo con il Vasto Girardi, una riconferma scontata per te che ormai fai parte effettivamente di questo gruppo, di questa società. No vabbè, riconferma aspettata perché comunque ogni anno devi sempre dimostrare e dare qualcosina in più perché giustamente se non fai bene la società guarda altro. Però sì, riprendiamo con tanto eforia, con tanto entusiasmo perché dopo questo lockdown di quasi cinque mesi che ci hanno chiuso, rinchiuso, è stata bruttissima. Riprendiamo con entusiasmo, con tanti giovani qui oggi e cerchiamo di far bene e continuare nello stesso passo che abbiamo fatto l'anno scorso. Gruppo rinnovato e come già anticipato tu anche giovane, però sempre con l'obiettivo di fare bene. Sì, quello sicuramente. Noi comunque cercheremo di migliorare le aspettative che ci sono state l'anno scorso. Un gruppo rinnovato perché comunque, avendo fatto bene l'anno scorso, ci sono stati calciatori che hanno migliorato la loro situazione personale e a noi non fa altro che piacere. Giustamente quest'anno abbiamo rinnovato il senso di giovani, ci fa piacere. Mi sento un po' vecchio, però va bene così. Per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie D, cosa ti aspetti? Sarà probabilmente un girone, forse sotto un punto di vista anche geografico, che potrebbe essere diverso perché anche negli altri sport ci sono state delle variazioni, ma cosa ti aspetti anche dal campo dopo il coronavirus? Sicuramente, come ho detto prima, ci sarà tanto entusiasmo, tanta voglia di riprendere perché fermare questo giochino, tra virgolette, che è uno sport che noi amiamo, fermarlo per tanto tempo è stata dura. Quindi ripartire con armonia è senz'altro una cosa bellissima. Le nostre aspettative, ti l'ho detto, saranno sicuramente di migliorare lo scorso anno, me lo auguro perché comunque mostrare geograficamente Vasto Girardi, che è una piccola realtà di 600 abitanti, portarla fuori, è un motivo d'orgoglio sia per noi, per i ragazzi che stanno qui, che giocano, e soprattutto per Vasto Girardi stesso. Siete reduci da una stagione in trasferta, perché poi obiettivamente non avete giocato nel campo di casa, la speranza è di tornare al di Tella. Sì, io il quarto anno che sto qua ho giocato sempre fuori casa, è arrivato quasi il momento di giocare le nostre muri amiche, perché comunque sia anche per poche anime, però stare in casa tua è sempre più bello, è sempre più emozionante e dai sempre quel qualcosa in più. Noi purtroppo abbiamo giocato sempre fuori casa, speriamo che i lavori finiscono al più presto e in modo da giocarci subito. Nuoto sarà presente anche Andrea Magri, atleta dell'M2 classe 2002, ai blocchi di partenza della 57esima edizione del Trofeo Sette Colli di scena fino a domani allo Stadio Olimpico del Nuoto del Foro Italico di Roma. L'atleta di spicco dell'M2 gareggerà domani mattina nella gara dei 50 Farfalla e dei 200 Stile Libero. Il tempo ottenuto dall'atleta 1-52-03 in quest'ultima gara la scorsa settimana a Roma durante il campionato regionale Lazio è attualmente la migliore prestazione italiana nella categoria junior. A partire dalle 11 sarà possibile seguire in diretta sul profilo Facebook dell'M2 le due gare di Magri che appunto è allenato da Raffaele Rampino e Simone Palombi del Tiro al Volo Roma. Per il calcio regionale ieri lungo consiglio direttivo per la FIGC in Molise definiti gli organici d'eccellenza e promozione. L'organo federale prosegue i lavori verso le categorie minori e sul calcio a 5 ai nostri microfoni il Presidente. Piero Di Cristinzi, allora si è appena concluso il consiglio del Comitato regionale Molise le novità? La novità più importante è che il 7 il Governo ha fatto un nuovo decreto che praticamente va incontro alle esigenze di quelle che sono tutte le attività calcistiche, direttandistiche e giovanile che a breve è possibile ricominciare a giocare a fare le attività di contatto praticamente, l'utilizzo di nuovo degli spogliatoi e anche sono previsti anche gli spettatori sui sparti. Questo vuol dire ritornare a vivere quello che è proprio il calcio in tutta la sua integrità. Naturalmente bisogna aspettare un attimo anche che la Regione Molise dove non ha fatto altro che ha prolungato un decreto già in atto praticamente perché al momento del Goro non c'era questo nuovo decreto da parte della Regione che è stato prorogato fino al 15 ottobre ma credo che a breve il Presidente Toma farà un nuovo provvedimento che non farà altro che andare incontro a quello che è il decreto a livello governativo che riguarda un poco tutta l'Italia e tutte le attività calcistiche in Italia a livello giovanile e scolastico. Certamente. Allora, quindi hai già preso un appuntamento con il Governatore Toma proprio per affrontare questo discorso noi siamo sicuri, siamo certi perché lo conosciamo che sarà assolutamente sensibile e disponibile quindi le date restano confermate. L'ultima domenica di agosto si parte con la Coppa Italia il 13 settembre con i campionati di eccellenza e promozione. Sì, certamente oggi abbiamo confermato le stesse date abbiamo fatto anche i gironi della Coppa Italia di eccellenza e promozione abbiamo fatto anche i ripescaggi uno soltanto in eccellenza che è andato a favore della nuova società dalla fusione San Leucio-Volturnia di Cerra Volturno e dei ripescaggi nel campionato di promozione un campionato di promozione che ritorna a 16 squadre con tre società ripescate che praticamente erano società che hanno fatto tutto secondo la norma e hanno diritto e quartieri Campobasso Nord che sembra che entri in una collaborazione con le Acre in particolar modo col Mirabello non vado errato di un progetto molto molto importante sul Campobasso proiettato maggiormente sui giovani e la polis pedacciata e il Guardi Alfieri il Guardi Alfieri è la prima avendo diritto la seconda è il quartiere Campobasso Nord terzo è la polis pedacciata c'è una grande voglia di ripartire di giocare questo è proprio quello che sentiamo giorno dopo giorno a tutti i livelli in qualsiasi attività anche il Calciacinque ci sono ottime speranze che si ritorna da un girone unico a due gironi di nuovo perché c'è l'attesione di nuove società che vogliono partecipare anche il Calciacinque al femminile avremo un numero maggiore di quello che è stato lo scorso anno e ci aspettiamo delle risposte abbastanza concrete da parte del settore giovanile che sicuramente avremo e presenti gli organici di eccellenza e promozione sono completi peccato per il Don Caisagnolo che aveva diritto a partecipare al camminato di promozione però essendo che noi avevamo un regolamento che parlava di perentorietà nell'iscrizione è arrivato con un poco di ritardo praticamente nei giorni successivi alla scadenza dell'iscrizione e il nostro malgrado gli abbiamo dato la possibilità di poter regolarizzare l'iscrizione soltanto in prima categoria una prima categoria che è già quasi completa come minimo a 32 squadre praticamente è molto meglio della scorsa stagione e praticamente siamo pronti la parte più corposa di tutta l'attività è pronta speriamo che possiamo partire secondo le date che abbiamo stabilito infatti faremo un nuovo consiglio il giorno 20 della prossima settimana per definire pure la prima categoria e incominciare a pensare a quello che è la seconda categoria dove teniamo diverse società nuove in seconda categoria attualmente sono circa 13-14 però speriamo ancora di poter aumentare questo numero deve confermare importanti certamente quindi per esempio per il calcio a 5 per il futsal abbiamo naturalmente una squadra in A1 in A2 che è appunto il Cus e poi in Serie B c'è la Chaminade e anche il Venafro e il Torre Maggiore no? anche il Torre Maggiore quindi oltre a queste due gironi si torna a due gironi del futsal a livello di Serie C1 ci sono tutte le promesse abbiamo visto poco fa le premesse sono buone c'è molta tesione società nuove che si sono già concretizzate credo che sicuramente passeremo a due gironi due gironi sono importanti perché poi c'è anche un risparmio economico nella prima fase praticamente dell'attività poi certamente sono i play-off i play-out la parte finale del torneo che è una parte molto molto importante che va a definire quale società poi passa ai campionati nazionali va bene Presidente allora grazie per questa intervista perché come hai detto tu siamo venuti quasi live no? al Comitato Regionale Molise in bocca al lupo e poi ci vedremo sicuramente per la presentazione dei calendari la faremo speriamo di farlo come sempre abbiamo fatto perché questa è un'altra cosa che manca è il contatto continuo il contatto umano con i dirigenti società lo chiedono lo vogliono e noi speriamo di farlo il più presto possibile credo che i primi giorni di settembre faremo la presentazione dei calendari di eccellenza e promozione i quadri sono completi credo che siamo pronti per ripartire poi speriamo molto nella 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 pandemia che si allontani sempre di più e questa è la nostra speranza un grazie a voi di Telemonise che ci date sempre l'opportunità di poter comunicare in tempi rapidi e efficaci quello che è il monto del calcio molisano confermate le date di partenza per la prossima stagione le squadre di eccellenza e promozione completano il mercato e fissano la data del ritiro conosciuti gli avversari della prossima stagione confermate le date i club di eccellenza e promozione sono ancora al lavoro come dichiarato anche dal presidente della fisici molise Piero Di Cristinzi questi nei prossimi giorni incontrerà il governatore Toma per stabilire la ripresa delle attività la regione dovrà recepire e adattare l'ultimo protocollo nazionale anche agli sport minori non professionistici regionali per permettere alle squadre di poter riprendere gli allenamenti in attesa di queste notizie proseguono le operazioni di mercato Matteo Corvo per la stagione 2020-2021 vestirà la maia bianco celeste del cittadisernia fraterna Rocca Sicura il difensore lo scorso anno a Vasto Girardi ma con un trascorso anche ad Agnone e tre stagioni con il campo basso sempre in serie D ha trovato l'accordo con il direttore Palmegiano la società è al lavoro per completare l'organico di mister Di Rienzo tutti i giocatori con un lungo trascorso sui campi regionali che hanno già vinto la massima serie e pedine di categoria superiore il cittadisernia fraterna Rocca Sicura ha fissato la data del ritiro per venerdì 21 gli allenamenti si svolgeranno tra Lancellotta e Rocca Sicura si allunga l'elenco dei riconfermati in casa Campo di Pietra tra i pali dei rosso-blu per un'altra stagione il classe 2002 Gianluca Borreca la squadra di mister Cordone prende forma tanti riconfermati e qualche nuovo innesto di qualità uno su tutti il centrocampista Fazio con un passato tra Lega Pro e Serie D il Boiano riparte dal capitano Gianmarco Schipani il centrocampista classe 1997 per il quarto anno consecutivo indosserà la maglia bianco-rossa il termoli 1920 con il nuovo presidente onorario Alberto Montano ex sindaco proprio del comune Basso Molisano domenica sera le 21 presso il Teatro Verde in occasione di uno spettacolo organizzato dalla stessa società presenterà il nuovo direttivo e la squadra in promozione la Turris è attiva sul mercato alla ricerca di pedine giuste da mettere a disposizione di mister Carmine Rienzo e anche sul fronte societario con l'ingresso di nuovi sponsor Calcio a 5 di Serie B la sciaminata è partita dalla conferma di mister Tavone secondo anno consecutivo alla guida dei Rosso Blu che quest'anno scelgono la linea Made in Molise ne abbiamo parlato proprio con il tecnico mister Tavone prima di tutto un commento sulla sua riconferma di lei e di tutto il suo staff voglio ringraziare la società perché per il secondo anno consecutivo mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo campionato nazionale nelle vesti di allenatore della sciaminata e nello stesso tempo ringrazio la società perché mi ha dato l'opportunità di ampliare il mio staff con Alessandro Cavaliere che vestirà i panni di vice allenatore e con Francesco Ialenti in qualità di team manager e Antonello Pascale in qualità di direttore sportivo e mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare con le persone da me scelte lo scorso anno quindi Stefano Moffa nelle vesti di preparatore atletico e Agostino Di Salvio nelle vesti di collaboratore tecnico e ringrazio Vetano Bova che anche quest'anno sarà il nostro preparatore dei portieri Sono stati resi noti i gironi cosa pensa dell'inserimento anche delle squadre calabresi si aspettava una distribuzione diversa delle squadre? Siamo stati inseriti nel girone G con nove compaggini pugliesi una abruzzese e due calabresi sarà sicuramente un girone duro e nello stesso tempo impegnativo per quanto riguarda le distanze perché comunque comportano trasferte di 4-500 km per arrivare in Calabria ma nello stesso tempo faremo del nostro meglio per per toglierci le nostre soddisfazioni Sarà una chaminade made in Molise cosa vi ha spinto verso questa scelta? Beh quest'anno iniziamo un nuovo corso la società mi ha proposto un nuovo progetto ed assieme allo staff tecnico lo abbiamo da subito sposato e condiviso sarà una chaminade diciamo made in Italy ma più nello specifico made in Molise perché probabilmente il 99% dei ragazzi saranno nati in Molise abbiamo fatto questa scelta non solo per le problematiche dovute al Covid ma anche per dare l'opportunità a tantissimi ragazzi validi di confrontarsi con questo campionato che comunque ha un grande interesse a livello nazionale ed anche perché crediamo nelle loro potenzialità il campionato si aspetta anche dopo la scorsa stagione e il blocco delle attività che abbiamo vissuto in questo periodo campionato scorso non è finito come ci aspettavamo vuoi le problematiche causate dal Covid vuoi altri piccoli problemi venuti fuori all'interno dello spogliatoio ma sicuramente quest'anno ripartiamo con tanta capardietà e con una mentalità diversa mi aspetto un campionato sicuramente come dicevo prima duro ed impegnativo però vedo un girone abbastanza equilibrato non vedo squadre costruite per ammazzare il campionato quindi ci sarà la possibilità da parte di tutti di sbagliare e rimettersi in carreggiata sicuramente ogni compagine che andremo ad affrontare vorrà fare del proprio meglio per arrivare lassù per provare a vincere come ben sappiamo le pugliesi sono sempre squadre organizzatissime che faranno di tutto per togliersi le loro migliori soddisfazioni mentre noi dal canto nostro sempre nella speranza che torni tutto alla normalità partiremo con grande sacrificio e spirito di gruppo per provare a dar filo da torcere a tutti e perché no toglierci quelle soddisfazioni che poi nessuno potrebbe mai immaginare per la Chaminade oggi appuntamento alle ore 16 alla palestra Sturzo per uno stage aperto ai ragazzi dal 2000 al 2003 per allestire la formazione under 19 che prenderà parte al prossimo campionato nazionale domani alle 16 e 30 il campo da calcio dell'area sportiva Sturzo ospiterà i ragazzi delle categorie giovanissime 2006-2007 e allievi 2004-2005 per il settore del calcio ad 11 Atletica il ritorno ad una gara ufficiale dopo un lungo stop per i tesserati della polisportiva Molise che si sono fatti trovare pronti e hanno staccato il pass per gli italiani ai nostri microfoni il tecnico Di Giacomo Andrea Di Giacomo tecnico della polisportiva Molise si è tornati finalmente alle gare dopo un lungo stop per voi sono già arrivati i primi risultati importanti Sì devo dire che siamo molto soddisfatti come società per il fatto innanzitutto che si sia ripreso finalmente a gareggiare che abbiamo potuto riassaggiare la pista e la competizione poi anche per diciamo sotto un profilo squisitamente tecnico perché abbiamo già avuto i primi riscontri i primi risultati positivi come per esempio quello di Daria Tucci che ha segnato già il minimo per i campionati italiani al primo tentativo utile sulla distanza di 2.000 siepi Il calendario sta prendendo forma ha preso forma dopo il lockdown nel medio e lungo periodo quali gli appuntamenti più importanti per voi Allora il calendario è sicuramente in divenire diciamo quindi ci possiamo aspettare delle variazioni in corso d'opera però già nelle prossime settimane torneranno a gareggiare anche i più piccolini gli esordienti e i ragazzi quindi i ragazzini dai 5 ai 14 anni e poi speriamo successivamente anche di poter avere sempre più gare soprattutto per il mese di settembre quindi diciamo è tutto in divenire tutto deve prendere forma Campionati italiani quali gli obiettivi per voi? sicuramente abbiamo già un minimo come ho detto prima quello di Dariatucci per il campionato italiano della categoria allievi abbiamo già altri prospetti interessanti che potrebbero che potrebbero diciamo far vedere qualche altro risultato positivo siamo siamo in attesa appunto delle prossime competizioni perché qualche altro risultato positivo qualche altro minimo e diciamo qualche altro pass per i campionati italiani ci auguriamo che possa arrivare a breve facendo un passo indietro c'è stata la gara qui a Campobasso dove avete ben figurato che bilancio si può fare? allora diciamo che era importante già solo il fatto di poter tornare alla competizione anche perché ai ragazzi mancava mancava il diciamo il sapore della pista il sapore della competizione poi proprio a livello tecnico abbiamo visto che comunque nonostante il lungo periodo di stop i ragazzi non hanno perso la forma anche perché hanno continuato ad allenarsi nonostante il lockdown in casa seguendo i nostri programmi quindi diciamo che abbiamo avuto dei riscontri molto positivi per quanto riguarda i risultati per questo siamo fiduciosi per il futuro in chiusura vi segnaliamo l'appuntamento con l'orso delle vigne agriturismo di Frosolone per il Ferragosto che propone come sempre un doppio menù quello per gli adulti con antipasto due primi un ricco seconde un dolce finale mentre per i più piccoli è previsto un menù speciale per informazioni e prenotazioni potete contattare il 320 23 96 591 o il 339 89 86 861 bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio